Sindaco, domenica scadrà l'ordinanza che riguarda gli orari della Movida di Pescara. Che cosa si prevede invece per l'ultima parte di agosto, per settembre? Oggi ho incontrato le associazioni di categoria che mi hanno esposto le loro problematiche, i loro desiderata, mi hanno anche detto che la stagione ha funzionato benissimo, nel senso che gli orari che noi abbiamo portato avanti alla fine si sono rivelati giusti per far sì che Pescara potesse vivere tranquillamente l'estate in maniera molto profigua perché Pescara scoppia di gente oramai da molte settimane, tant'è che non si trova ancora oggi dopo ferragosto un posto letto o un ombrellone o una palma nella nostra città. Quindi mi hanno chiesto di estendere questo discorso fino a fine mese per poi ritornare a un ragionamento più consono al periodo pre-autunnale. Io sto ragionando, ovviamente voglio sentire anche quelli che in qualche modo hanno altre esigenze in città. Tenuto conto che l'equilibrio per me è fondamentale perché è giusto cercare di trovare l'equilibrio di fronte anche a opposte o divergenti posizioni. Fino adesso ci siamo sempre riusciti e questa città ha avuto vantaggi da questo fatto qui. Domani io metto l'ordinanza ma mi sono preso un altro giorno di tempo per ragionare, per capire come conciliare le opposte esigenze e soprattutto come confezionare un prodotto che ci permetta di continuare a vivere questa stagione felice senza creare problemi a nessuno.